Ognuno di noi può dire, Gesù sulla croce ha pregato per me. Gesù può dirci a ognuno di noi, ho pregato per te nell'ultima cena e sul legno della croce. E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. Ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che per così dire siamo stati pregati, siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre. Nella comunione dello Spirito Santo, Gesù prega per me. Ognuno di noi può mettere questo nel cuore, non dimenticarlo, anche nei momenti più brutti. Grazie. Grazie. Grazie.